Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono sempre Dark Griever e anche oggi la scelta spetta solo a voi. Oggi avrete la possibilità di scegliere tra due uccelli, oddio, detto così è brutto da dire, però effettivamente è quello che è, due Beard Wyvern. Potrete scegliere il caro vecchio Hypnok, versione G, HC ovviamente, il quale lo conoscete tutti, fa attacchi di tipo sonno, ma questo è veramente pazzo, oppure il Vorokururu, alias Kurupeco Leggendario. Che dire di questo mostro? Nel suo stage assorbe, diciamo, i fiori circostanti, li assimila e ne prende l'attributo. Penso che lo faremo in modalità SR100, ma forse vediamo se c'è la possibilità di HC, faremo anche l'HC. Come sempre, il link lo troverete in descrizione per il sondaggio, che potrete appunto optare per l'Hipnok, oppure per il Forokururu. Scegliete quale volete, dei due, poi cliccate su Meet e vediamo chi vince dei due. Quindi, ricordatevi bene, Hypnokatrice, oppure Forokururu. La scelta aspetta solo a voi! Ciao ragazzi, al prossimo video!